Occorre ancora molto altro lavoro e sarà interessante sentire a breve, appena possibile, il Ministero dell'Ambiente, chi dirige il settore bonifica, perché abbiamo avuto informale notizia circa il fatto che la procedura di gara, risalente ormai a quasi due anni fa, sarebbe in via di revoca. Lo verificheremo, lo accerteremo, ma non possiamo darlo come acquisito questo dato, ma questo sarebbe molto preoccupante. Perché il sito di Bussi, il SIN nel suo complesso, il complesso bolognano, le altre aree private e pubbliche, presentano tuttora elementi di grave rischio per l'ambiente, per le acque, per la salute. E noi non possiamo permetterci che questa situazione si protragga ancora, senza neanche iniziare l'attività di bonifica vera e propria. Dobbiamo anzi fare in modo che anche le misure di messa in sicurezza, di protezione, vengano ulteriormente implementate e rafforzate.